Come è la città di Bosa? Come è l'accesso alla torre, altrettanto dicasi per il castello dove bisogna assicurare e garantire pienamente quella che è la sicurezza. Quindi un'altra serie di interventi saranno sul castello, un'altra serie di interventi sono per il completamento del parcheggio di Santa Giusta, per il teatro civico e poi ci sono sempre con fondi comunali un potenziamento delle strutture sportive. Vengono recuperate quelle che sono le strutture sportive della ex scuola media numero 2, quindi la palestra, il rifacimento della palestra con la casa del custode, i servizi vari e di due campi polivalenti che sono all'esterno. Ecco, volevo dire, il problema di Bosa è sempre stato il fiume, per il fiume cosa si prevede? Certo, il problema di Bosa è il fiume, ultimamente abbiamo ottenuto un finanziamento di un milione e mezzo grazie anche alla collaborazione di tutti i politici locali, un milione e mezzo per il dragaggio del fiume che è una necessità assoluta. Poi ci sono una serie di finanziamenti per l'arginatura, circa 5 milioni e 600 mila che gestirà direttamente l'amministrazione comunale. E poi per i canali, quello di Saladerro, quello di Segabane e poi canali anche per la raccolta delle acque piovane all'intorno della città. Per queste opere sono complessivamente previsti circa 12 milioni di euro, quindi risorse ingenti, risorse particolarmente significative, ma poi ci sono anche interventi sull'asfalto cittadino, sul recupero di danni che hanno effettuato le mareggiate, per esempio a Turas, a Bosa Marina e ancora su una frana, un principio di frana che c'è sul Monte Furru, l'arginatura di questa frana, un recupero anche di una situazione dovuta a quello che è stato un incendio che c'è stato nel periodo estivo l'estate scorsa e che ha reso instabile una parte del versante nella strada Bosa-Modolo. Nella spiaggetta di Turas attualmente è impossibile scendere, ci sarà qualcosa anche lì? Nella spiaggia di Turas si ha un accesso a Settentrione che è praticabilissimo, mentre l'accesso a Meridione della spiaggia, proprio di fronte all'albergo, è attualmente precluso ed è proprio lì che dovrà essere realizzata proprio le mareggiate che hanno portato via questo muraglione calcestruzzo del contenimento e dovrà essere realizzata proprio una nuova gradinata. A Bosa-Marina invece la strada che congiunge la torre dell'Isola Rosa con Bosa-Marina, con la terraferma, insomma, viene spesso ricoperta di sabbia, quindi bisogna trovare una soluzione da questo punto di vista.